buongiorno ad obiettivo news oggi 17 febbraio assanti sette fondatori dell'ordine dei servizi di maria oggi è la giornata nazionale del gatto sono state l'associazione felina italiana a decidere che la giornata dedicata al gatto fosse il 17 febbraio la scelta del giorno deriva dall' iniziativa della giornalista di tutto gatto claudia angeletti che nel 1990 sede però per creare questa ricorrenza la data è motivata da varie ragioni febbraio il mese d'acquario dominato da urano protettore di quegli spiriti liberi che come i gatti non amano sentirsi oppressi da regole rigide il giorno 17 richiama poi quell'atmosfera arcane superstiziose a cui il gatto è legato da secoli oggi è anche la giornata nazionale della zuppa inglese e la giornata internazionale del cavolo e del café au lait che corrisponde al nostro café latte tra i nati di oggi abbiamo checco de moda 1978 e leonardo pieraccioni 1965 tra le scomparsi ricordiamo il calciatore omar passivoli 2005